Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Torna a colpire la banda del buco rubate sigarette in un bar di Ponterio altro furto a Senigallia Il tempo sta per scadere i carristi lanciano l'ultimatum a ente carnevalesche comuni di Fano pronta la replica del presidente Cecchini Minardi si è dimesso da presidente del consiglio comunale di Fano ma resterà consigliera al suo posto a giorni la sempreverde Rosetta Fulti del PD Seri risponde al sindacato di polizia chiudere lo stadio di Fano sarebbe deleterio venerdì annuncia un incontro con il prefetto Pizzi le associazioni si mobilitano per sostenere i genitori di Federico il bimbo fanese affetto da morbo di crabbe che dovrà sottoporsi ad un ciclo di cuore costosissimo questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri un cordele saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia prosegue senza sosta l'ondata di furti ai danni di esercizi commerciali la notte scorsa i ladri hanno rubato in un bar che si trova all'interno di un impianto di metano a Ponterio così come già accaduto in situazioni analoghe la banda composta da almeno 3-4 persone è entrata in azione intorno alla mezzanotte sfondando la parete esterna nel retro del locale poi è entrata e ha portato via la refurtiva un bottino composto solo da sigarette in quanto non c'erano soldi nel registratore di cassa un'azione durata qualche minuto perché poi è scattato il sistema d'allarme che li ha messi in fuga i danni ammontano a circa 5.000 euro indagano i carabinieri di Senigallia sempre la notte scorsa ma con modalità diverse un altro colpo è stato messo a segno in un bar a Senigallia in via Sanzio dove i ladri hanno prima sfondato la vetrata d'ingresso del locale poi hanno prelevato una macchinetta a cambio soldi e alcune slot machine che sono state poi ritrovate questa mattina a Marotta e un giovane di Senigallia è stato arrestato la notte scorsa a Staffolo dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze superfacenti si tratta di un 26enne disoccupato già notte alle forze dell'ordine i militari hanno pedinato e poi bloccato è stato trovato in possesso di 700 grammi di hashish 9 grammi di anfetamine in parte suddivisi in dosi e pronti per essere vendute la droga del valore di circa 5.000 euro era nascosta in uno zainetto e adesso voltiamo pagina il Carnevale di Fano mancano tre mesi e il tempo utile per organizzare il Carnevale stringe e la Carnevalesca sia la Carnevalesca che l'amministrazione comunale non hanno ancora risposto al progetto per la realizzazione dei carri e delle mascherate che i maestri carristi hanno presentato le settimane scorse sono seriamente preoccupati per il prossimo Carnevale invernale in programma per il 24 e 31 gennaio e la prima domenica di febbraio il tempo stringe dicono i maestri carristi che non si sentono considerati e che chiedono risposte sul progetto presentato le scorse settimane sia alla Carnevalesca ente al quale viene affidata l'organizzazione dell'evento che all'amministrazione comunale garante delle tradizioni nel cui statuto è sancito il ruolo di Fano città del Carnevale noi abbiamo presentato un progetto per una riqualificazione del Carnevale un progetto anche abbastanza ambizioso tra le virgolette relativo a quelle che sono le disponibilità finanziarie però non abbiamo ancora ad oggi avuto una risposta ufficiale su quelle che poi potrebbero essere davvero le costruzioni che dovremmo iniziare perché il tempo davvero sta fuggendo rimangono oramai poco più di tre mesi e per poter fare un lavoro che abbia un senso ci vogliono almeno quei giorni per poter realizzare un'opera degna del Carnevale di Fano che diciamo è una manifestazione molto importante almeno noi ci crediamo l'eventuale decisione della Carnevalesca di organizzare un'edizione con carri vecchi escludendo i maestri carristi che ne sono anima e motore ricordano significherebbe la fine del nostro Carnevale da sempre considerato la manifestazione più importante della città e della regione secondo loro questo sarebbe la fine di una tradizione artistica e artigianale una fine concludono giorno dopo giorno sempre più vicina il problema del Carnevale non sono i soldi il Carnevale i soldi li può apportare se il Carnevale viene continuamente organizzato nel corso dei vari tempi ormai da tempo in un modo non consono alle sue potenzialità sarà sempre rimessa il Carnevale ben organizzato è un guadagno per la città quindi che finisca questo interrogativo che i carri carristi devono pagare sempre le responsabilità di altri e che il Carnevale è un costo il Carnevale deve essere un investimento una cultura e uno sviluppo della città e ai carristi risponde attraverso il nostro telegiornale il presidente della Carnevalesca Luciano Cecchini ha un saldo negativo di oltre 60.000 euro l'ente carnivalesca che proprio in questi giorni sta elaborando il suo bilancio nelle casse infatti mancano alcuni contributi promessi lo scorso anno dagli enti istituzionali e da alcune associazioni di categoria ma non ancora riscossi per chiudere questi debiti sarà necessario fare dei tagli e risparmiare dove possibile intanto l'amministrazione comunale ha riconfermato per il Carnevale la stessa cifra delle passate edizioni ad annunciarlo il presidente dell'ente carnivalesca Luciano Cecchini che risponde anche alle dichiarazioni dei maestri carristi allora innanzitutto forse c'è qualche incomprensione per carità noi ci assumiamo tutte le responsabilità non saremo dei grandi geni nell'organizzare per carità di Dio però ci tengo a precisare che a noi l'amministrazione ci ha ribadito e ci ha confermato che con un grande sforzo garantiranno i 130.000 euro il progetto dei maestri carristi è favoloso l'unica pecca che costa 150.000 euro e non riusciamo a finanziarlo è tutto qui il nodo che dobbiamo insieme sciogliere ma al di là di questo sogno che Pacassoni insiste che il Carnevale si realizza anche come un sogno però dobbiamo passare poi alla realtà e con l'obiettivo di avviare i lavori Cecchini ha convocato per lunedì 19 ottobre alle ore 21 il consiglio di amministrazione della carnevalesca nel frattempo spiega la reale situazione dell'ente dobbiamo cercare di richiudere questi debiti come abbiamo pensato il 50% innanzitutto lo investiamo nel Carnevale Invernale di quest'anno visto che poi si chiude il mio secondo triennio da Presidente il sondaggio che tutti abbiamo decantato che è piaciuto a tutti però forse qualcuno non l'ha letto la cosa più importante che dice che l'8% conosce il Carnevale di Fano quindi c'è qualcosa che non va e allora come carnevalesca già da alcuni mesi ci siamo presi l'impegno di finanziare di più la comunicazione a livello nazionale e lì investiremo 25-30 mila euro quindi tolto questo vedete un po' che rimangono qui 70-75 mila euro che investiremo sul restyling di carri e sulle mascherate argomento trattato anche questa sera alle ore 18 durante un incontro programmatico in comune insieme ai carristi ai quali il Presidente lancia un appello se volete bene al Carnevale dateci una mano a fare una bella edizione 2016 facendo un passo indietro aspetto la vostra collaborazione da parte della carnevalesca non vuole escludere nessuno sul bando invece pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali che stanze a un milione di euro per le manifestazioni storiche assicura che stanno lavorando sul progetto assieme all'Ufficio Cultura del Comune di Fano ci arriverà qualcosa 10, 20, 50, 100, 500 più ne arriva meglio è andranno tutti investiti come ho già detto e come mi è stato confermato sia dal Sindaco che dal Vice Sindaco andranno investiti nel Carnevale Estivo 2016 che quest'anno si farà che questo è garantito e lì investiremo sia questi soldi del Ministero sia perché no in Regione si sta parlando anche di rivedere il contributo al Carnevale di Fano ben vengano cifre superiori ma onestamente oggi come oggi come carnevalesca e come responsabile del CDA della Carnevalesca non me la sento di fare ulteriori debiti si sapeva già oggi è arrivata all'ufficialità dopo l'elezione al Consiglio regionale Renato Claudio Minardi oggi ha ufficializzato invece le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale di Fano ci è voluto un po' di tempo per quadrare la situazione però oggi arriviamo al punto cruciale oggi ho rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale e quindi il 21 di ottobre nella prossima seduta sarà eletto un nuovo Presidente voglio ringraziare per la collaborazione con la quale abbiamo condotto i lavori in questi 16 mesi di attività le due Vice Presidenti Barbara Brunori e Marta Ruggeri perché con loro abbiamo lavorato bene abbiamo condiviso questo percorso e c'è stata ampia collaborazione e anche nel rigore nella sobrietà ci siamo contraddistinti andando molto d'accordo sono onorato del ruolo che mi è stato affidato di guidare il Consiglio Comunale di Fano da parte del Consiglio Comunale ho ricoperto questo ruolo con impegno con determinazione lavorando come garante di tutti i consiglieri e cercando di essere il più imparziale possibile perché chi fa il Presidente del Consiglio Comunale deve avere obbligatoriamente il massimo del rigore e anche il massimo dell'imparzialità questo ho fatto credo di aver fatto il massimo per la mia città rimango nel ruolo di consigliere comunale semplice ma continuerò a lavorare dalla Regione Marche per la mia città che è la città di Fano non si placano le polemiche sul gestione dell'ordine pubblico del dopo partita Fano Samba ieri è intervenuto in Consiglio Comunale il Sindaco Seri che ha risposto al Sindacato di Polizia e poi ha annunciato che incontrerà il Prefetto di Pesaro Pizzi non ci sono elementi perché possono portare a un tema come la chiusura dello Stato che sarebbe un danno immenso per la città e quindi ho detto questo in Consiglio Comunale come Sindaco non lo potrei mai permettere sarebbe un grosso danno economico per la città e il problema non si pone neanche lo stadio Mancini non si tocca metterà in atto tutte le azioni possibili il Sindaco di Fano Massimo Seri affinché l'impianto sportivo non venga chiuso come ipotizzato invece dal SIULP il Sindacato di Polizia intervenuto con un comunicato stampa nei giorni scorsi il primo cittadino ne ha parlato mercoledì sera durante una seduta del Consiglio Comunale rispondendo così ad una interpellanza urgente del consigliere di Progetto Fano Alberto Santorelli presentata dopo i tumulti accaduti domenica scorsa al termine della partita tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese quello è stato un comunicato stampa di un sindacato di Polizia che va rispettato però onestamente il problema dal mio punto di vista non si pone ma penso non si ponga neanche per quanto riguarda la Questura e la Prefettura e proprio in Prefettura proseguito Seri si svolgerà un incontro venerdì convocato dal Prefetto Luigi Pizzi con il Commissariato invece si sta pensando ad una nuova segnaletica ad oggi mancante che permetta alle tifoserie ospiti di indirezzarsi su un percorso predefinito per raggiungere lo stadio e la zona di parcheggio a loro dedicata è uno stadio nato tanti anni fa si trova al centro della città ecco queste strutture dovrebbero essere tutte fuori un po' come dire anche la ferrovia è stata fatta nell'Ottocento e a ridosso della costa e passa dentro i centri bisognerebbe cambiare ma le risorse sono quelle che sono questo è comunque uno stadio che è adeguato per quello per le esigenze che abbiamo noi e poi voglio spendere anche una parola nei confronti del nostro tifo che è un tifo maturo che fra l'altro sta crescendo anche loro hanno messo una passione hanno messo anche un entusiasmo curando le scenografie è uno spettacolo o non uno spettacolo il sindaco ha poi risposto alla segretaria della lista civica Lattoafano Francesca Cecchini che aveva proposto un nuovo stadio da collocarsi al di fuori di un quartiere residenziale quale quello di San Lazzaro suggerendo l'ex mattatoio l'ex zuccherificio o la zona di Chiaruccia chi è che può essere contrario però per costruire uno stadio ci vogliono risorse importanti siamo in una fase anche di crisi per cui se ci arrivano delle proposte benvengano però adesso manteniamo i piedi per terra sappiamo benissimo che non ci sono le condizioni se poi domani si dovessero creare ci si può ragionare ma non lo vedo nel giro di un breve periodo un incidente autonomo è accaduto questa mattina poco dopo le 11.30 lungo la statale Adriatica all'altezza di Fosso 6 ore per causa ancora in corso di accertamenti il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare con l'auto contro un palo della luce sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato all'ospedale Santa Croce tutti e tre gli occupanti del mezzo rimasti feriti nell'incidente e la Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge per dirigere il traffico che naturalmente ha subito dei rallentamenti proseguono le iniziative per raccogliere fondi dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi dai genitori del piccolo Federico Mezzina il bimbo fanese affetto dal morbo di Crabbe che per migliorare le sue condizioni di salute necessita di cure costose all'estero ancora un atto all'insegna della solidarietà la comunità di Fano si mobilita e corre in aiuto di Federico il bimbo fanese di 5 anni che necessita di ulteriori terapie con cellule staminali dopo l'ultima infusione avvenuta nel luglio 2014 negli ultimi periodi infatti le sue condizioni di salute sono peggiorate fa difficoltà anche a masticare e deglutire ogni ciclo di trattamento all'estero però ha un costo di oltre 30.000 euro e per aiutare mamma Tiziana e papà Vito alcune attività commerciali si sono messe in moto organizzando diverse iniziative di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia del piccolo una di queste è lo sport park di Fano che per il 6 novembre prossimo dedicherà un giorno per Federico questo infatti è il titolo dell'evento creato anche sulla pagina Facebook Babyland e al quale hanno già aderito circa 300 persone e come è commentato dagli organizzatori Federico chiama e noi rispondiamo nel nostro piccolo abbiamo pensato di organizzare questa giornata creando questo piccolo evento dove i bambini possono venire semplicemente qui come tutti i giorni fanno però quel giorno appunto sanno che vengono giocano passano un pomeriggio e tutto quello che poi viene incassato verrà donato alla famiglia di Federico Quali iniziative verranno organizzate? Quel giorno i bambini potranno accedere al parco come gli altri giorni avranno disposizione i giochi avranno compreso nel 10 euro che costerà quel giorno il biglietto 4 gettoni per ogni gioco si sarà caro la Nesta che animerà tutto il pomeriggio parteciperà anche lei a questo evento e poi faremo merenda tutti insieme con i bimbi con pane e nutella che chiaramente quella non può mai mancare Per partecipare o avere informazioni sull'evento che si svolgerà dalle 16 alle ore 22 sarà possibile contattare il numero di telefono 0721 82 55 69 Noi auguriamo intanto che partecipino tantissime persone in maniera che la cifra possa essere più alta possibile e speriamo di dare nel nostro piccolo un buon contributo alla famiglia Ecco naturalmente non fermatevi qui continuate pure a organizzare queste iniziative poi fatecelo sapere perché noi saremo ben lieti e contenti di promuoverle attraverso il nostro canale e anche il nostro telegiornale E adesso il prossimo anno potranno partire i lavori per ampliare il cimitero di Rosciano ieri il Consiglio Comunale di Fano ha approvato il progetto preliminare È stato approvato dal Consiglio Comunale che ne ha competenza il progetto preliminare per l'ampliamento del cimitero di Rosciano che è un ampliamento importante volto soprattutto a ampliare i campi per inumazioni a terra visto che questo è una cosa che assolutamente è da rendere disponibile al più presto noi ci siamo impegnati sulla progettazione e quindi siamo arrivati al progetto preliminare che quindi il Consiglio ha autorizzato i lavori non sono lavori banali perché è un importo poco oltre i 300 mila euro quindi importante e prossimamente quindi dal progetto preliminare entro l'anno si arriverà al progetto definitivo il progetto definitivo verrà sottoposto ai pareri degli organismi competenti e poi si approverà il progetto esecutivo che è quello appaltabile e cantierabile in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione è stata organizzata una cena di beneficenza alla mensa di San Paterniano un mondo senza ingiustizie dove ogni persona e comunità povera ed esclusa possa godere pienamente dei propri diritti tramite l'analisi delle relazioni e rafforzamento del potere e questa è la visione di Action Aid che ha l'obiettivo di aiutare la popolazione in difficoltà ed anche in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione il gruppo locale dell'associazione presieduta da Stefano Sorcinelli ha organizzato per venerdì 16 ottobre una cena alla mensa di San Paterniano domani abbiamo organizzato come Action Aid Fano una cena solidale alla mensa di San Paterniano a Fano in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione e l'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la mensa e ovviamente invitando anche personaggi fanesi molto conosciuti e si spera di potersi anche divertire in leggerezza e in allegria grazie di dialetto fanese e i suoi interpreti magnifici ad aletare la serata infatti saranno gli sketch in vernacolo fanese ad opera di Filippo Tranquilli Stefano Facchini e Lorenzo Alessandrini accompagnati alla fisarmonica da Giovanni Oliva de Tovanni durante la cena inoltre il poeta Elvio Grilli premiato di recente dal sindaco seri quale ambasciatore del dialetto fanese in ambito nazionale e internazionale leggerà alcune delle sue poesie ormai famose in tutta Italia campagna nazionale portata avanti sempre dall'associazione impegnata nella lotta contro la fame nel mondo la povertà e l'esclusione sociale noi a livello locale molto spesso facciamo la casa di risonanza alle campagne lanciate da Accioni d'Italia quindi sostanzialmente l'ultima campagna che Accioni d'Italia ha lanciato è Cibo per tutti con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti specifici in India e in Etiopia e tutti possono partecipare a questa campagna Cibo per tutti inviando un sms al 45599 e la campagna scadeggio ad ottobre quindi avevo diciamo piacere di comunicarlo il prima possibile all'accidenza fanese così chi volesse in qualche modo aderire questa campagna Action Aid può ancora farlo e quindi ancora in tempo l'associazione Forbici di Fano propone per venerdì 16 ottobre alle ore 18 l'iniziativa Il ciclista illuminato per sensibilizzare i ciclisti ad un corretto uso della bicicletta e dal rispetto del codice della strada all'altezza di Porta Giulia i volontari di Forbici premieranno con targhette plastificate e con braccialetti fosforescenti tutti coloro che transiteranno in sella alle due ruote con luci accese o con almeno un impianto di illuminazione funzionante grande successo per l'istituto Marco Polo di Lucrezia di Cartoceto ai giochi sportivi studenteschi di pallavolo che si sono conclusi giovedì 8 ottobre al palazzetto dello sport di Cervia la squadra maschile ha ottenuto un bel quinto posto mentre quella femminile è salita sul podio conquistando una medaglia d'argento e allora davvero complimenti vivissime a tutti questi giovani e promettenti atleti il telegiornale è finito ma vogliamo chiudere con un sorriso il prossimo video pensate è stato visto visualizzato da oltre 60 milioni di persone in tutto il mondo e allora ve lo mostriamo anche noi grazie per averci seguito arrivederci a domani happy birthday to you make a wish snow snow wow blow it out go ah Grazie.